Lotus Avia è entrata nella sua fase iniziale di costruzione nel Regno Unito, mentre il tour globale dell'ipercar continua con il suo debutto cinese al Guangzhou Auto Show. Per festeggiare, Lotus ha presentato in anteprima un nuovo film durante la sua conferenza stampa dove si vede il prototipo numero 2 in azione ad alta velocità su un circuito privato e segna un momento cruciale, il debutto mondiale dinamico dell'ipercar britannica completamente elettrica. L'Evia, con una potenza nominale di 2000 CV che la rende la più potente auto stradale in produzione di serie al mondo, è già stata sottoposta a test cinematici e di conformità e ha superato molteplici simulazioni dinamiche di carico e sospensione.